raga e oggi faremo una reaction a animation versus minecraft potrei dire pure che potremmo potrebbe potremmo iniziare ok e iniziamo animation animazioni contro minecraft andavo passeggiante tutto intratto passo sulla cartella di minecraft clicco l'ho preso in mano e scoprì questo e minecraft che ti fai? una casa poco piccolo il letto tieni adesso è minecraft un gioco dove puoi creare e distruggere ma non puoi rompere la cobwe questo è il legno quattro pezzi aspettate ma con quattro pezzi non ti puoi fare due stick ti dovrebbero venire due stick no quattro stick no sei due quattro e due pezzi di legno vabbè che ti fai? un piccone ok potenza nucleare picconanza e l'ho amato ma questo manco la redstone dove l'avete tutta la redstone c'è possibile sta cosa che stai facendo? che stai facendo? ah che problemi diamante sì vabbè sì what the fuck sta facendo no stai fermo zio no 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 scusa non puoi fare i pistoni? no 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 piglia una piccone di ferro che vai a spaccare i diamanti 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 no wow ecchimi metti le scarpine peri veloce e la madonna quanti diamanti così è una metrallettrice no è una metrallettrice siamo pronti andiamo nello storage vabbè non c'è nessuno ammazzato ok c'è un nome impossibile scusate non ve l'ho potuto incantare questo è Naruto abbassiamo un po' che se non esplode il mondo qua morto spiatta è una roba mazza lo scemo mori che cos'è una marea di frecce è una marea di frecce è una marea di frecce è una marea di frecce e vabbè la mia marea di frecce mazza lo scemo e la mia marea di frecce Niente di male Dietietole un creeper E cosa hanno trovato? Cosa c'è? Uh, il nether Stanno distruggendo Come si chiama? Pigliate piccole scavazione Sì, vabbè, questo sono i minatori provetti Uh, stanno arrivando una stanza Ecco gli spawner Eh, ma l'ho visto Quello blu sono io Quello che brinca con la Reddison Sono tipo Naruto Piede queste mille No Aspettate No No, la spada Lui è incredibile No No, ero prendo l'ho visto Per un secondo Se non lo vedete anche voi Scrive Sì Dai, facciamoci pure una muraglia cinese Già che ci sia Sì No Aspettate Si E' un po' di morire Non si è rostro per la picona Sta rostro per la picona doppio piccolo no non credo fosse bella attenzione che non ma che ci sono 9 minuti di registrazione ciao bori cominciato tutto con quella e non si ferma e scappa con mezzo cuore no sta distruggendo tutto e viste sai il pepino cammino da pesca e che vuole è povero quello del computer figliro la coppa si si arraganti veramente che sto facendolo che fa? no certo distrutto mancraft scrivete se volete un'altra reaction questo è il posseduto e credo che sia finita finisce qui io potrei anche dire è finita ciao ragazzi grazie a tutti